edward ma ti sembra normale dico avere questa espressione a cosa stai pensando a cosa stai pensando al mangiare sto scherzando sto scherzando sto scherzando non volevo parlare del mangiare seduto piano edward edward seduto me lasci la mano bravo bravo piccolo triceratopo bravo stai calmo calmo ma perché quando la gente ti fa tu ti metti un allarme perché ti ricorda il mangiare anche questa parola ti mette l'allarme ti piace il mangiare tu sei pazzo sei pazzo smettila